Altro titolo della settimana, Rosario Neri, il regista nato a Xibet, che film è? Un minuto per raccontare il tuo film, Rosario. Sì, un minuto per raccontare, nato a Xibet, che deriva dall'arabo, è stato un caso la scrittura di questo film perché un mio amico ha costruito una bicicletta in legno, un mio amico che abita a Cala Cibetta e quando ho visto questa Cala Cibetta era veramente un'opera d'arte, ha detto ma scusa, ma tu non ti occupi di altro? Sì, ma io ero pure un pastorello e mi ha raccontato la sua infanzia che lui era un pastorello e ha preso tanto da quelle campagne, da suo padre, ha imparato a fare il formaggio, eccetera, eccetera. Sentiamo il pubblico, uscita sala. Se tu vuoi diventare la mamma di uno dei miei figli, deve essere sempre acqua e sapone. E' dipittato, a casa mia ci deve essere solo il carretto. Una signora è uscita per andare in banca e mi ha lasciato il bambino. È stato molto interessante, molto calino, molto bello. Un po' lento, però in generale è un bel film. Mi è piaciuto molto, sì, perché è un mondo che non esiste più e che cerchiamo di recuperare. C'è tanta nostalgia e tanta poesia. È bello, bello. Sì, sì, mi è piaciuto molto. Soprattutto ci sono delle scenografie bellissime, legate alla pittura anche, no? In fare sì, proprio un uso della luce che è molto bello. A me mi è piaciuto molto. Mi sembra un bel quadro realizzato da un siciliano che non vuole perdere la speranza di una Sicilia che sta morendo. Valerio Caprara, Ornella Sgroi, Sara Ricordati. Sara, brevemente. Natto a Xibet è un'operazione nostalgia sulla Sicilia. Sicilia ha una bellissima fotografia, dei momenti poetici, ma anche un montaggio forse un po' confuso, per cui in certi momenti ci si perde un po'. Valerio Caprara? La pastorellia era un genere letterario italiano. Purtroppo qui chiaramente la marcorda è sentito, i panorami, gli oggetti sono amati, però purtroppo il tutto sa di finto. È incredibile perché è un film che invece parla di verità. Ornella Sgroi, Catania. Ornella. Sì, devo dire che è forse una storia che avrebbe meritato di più di essere raccontata attraverso il documentario, perché sono dei racconti talmente tanto legati proprio alla terra. Anche un omaggio, c'è proprio scritto alla fine del film, ai bambini che davano una mano alle famiglie che si occupavano di pastorizia, del gregge. Alla fine nel volere un po' ripercorrere, inseguire questa nostalgia diventa troppo nostalgico. E allora mi chiedo, queste storie, perché non raccontarle dal vero nel vero, andandole a cercare laddove ancora si custodiscono? Brevemente vuole replicare qualcosa, Rosario? Allora, io intanto il montaggio, il film ha un intreccio nel montaggio e c'è proprio la chiave del finale. Non è banale come racconto in ordine cronologico, perché infatti la fine del film non è quando lui va via la prima volta. Ecco, e questo qua ci ho tenuto a trascinarmelo perché è proprio la chiave del film.